scelti i tre nuovi assessori si completa la giunta acquaroli bollette luminaria di natale pesaro studia soluzioni sostenibili incidenti a fanno tamponata anche un'auto della polizia buche e strade dissestate segnalazioni dal quartiere pantano via la terza stagione di insieme a canestro su rossini tv telegiornale di mercoledì 19 ottobre buona serata a tutti voi che state guardando rossini tv questa prima parte dell'edizione in questo in primo piano parliamo questa sera di politica perché dopo lunghe consultazioni si è completato oggi il nuovo assetto della regione marche con tre nuovi assessori che entrano al posto di quelli che sono usciti in direzione del parlamento e allora vediamo dunque come si riorganizza la giunta acquaroli si chiude la partita sul nuovo assetto della giunta della regione marche acquaroli ha perso metà dei suoi assessori che hanno preso la strada per roma insediatesi in parlamento lo scorso 13 ottobre una data in cui sono stati salutati i neo onorevoli mirco carloni giorgia latini e guido castelli nelle ultime ore acquaroli anche definitivamente scelto i sostituti primo nome quello di andrea antonini sarà infatti il consigliere regionale a scolano della lega a prendere buona parte delle deleghe che erano di carloni antonini diventa infatti il nuovo assessore a sviluppo economico agricoltura e fondi europei dalla lega è uscita in direzione montecitorio anche giorgia latini dalla lega entra una nuova assessora chiara biondi consigliera regionale fabrianese è il nuovo assessore con delega cultura istruzione e pari opportunità ultimo nome il più tribulato è quello in quota fratelli d'italia sarà infatti goffredo brandoni ex sindaco di falconara ad ereditare le deleghe di guido castelli brandoni sarà il nuovo assessore a bilancio personale e trasporto pubblico una carica che fin dalla campagna elettorale di agosto pareva assegnata a carlo ciccioli le cui ultime infelici dichiarazioni sul consiglio regionale dell'alluvione hanno costretto ad una dolorosa retromarcia a dispetto di scuse e chiarimenti di ciccioli parte dunque una nuova fase del governo regionale con antonini biondi e brandoni ad affiancare i confermati assessori saltamartini baldelli e aguzzi che da due anni sono il motore della giunta e fra le ultime azioni della giunta regionale vi abbiamo illustrato lunedì l'ufficialità del cronoprogramma sul nuovo ospedale di pesaro da realizzare come ben sapete a muraglia un intervento rivoluzionario ma che secondo l'opposizione non soddisfa ancora la carenza di posti letto nella provincia pesarese in consiglio regionale è stata discursa la mia interrogazione rispetto al riequilibrio di posti letto nell'area vasta 1 e quindi nella provincia di presurbino infatti rispetto agli standard di qualità previsti dal decreto ministeriale nella nostra provincia mancano all'appello oltre 300 posti letto la mancanza di questi posti letto si è aggravato ulteriormente anche a causa della scelta che la ragione ha fatto di chiudere l'azienda Marche Nord azienda che in qualche modo riusciva a garantire un numero di prestazioni è più elevato rispetto allo standard grazie agli ottimi standard di qualità anche se devo dire che anche se c'era l'azienda Marche Nord comunque i problemi c'erano sia per quanto riguarda le liste d'attesa che la mobilità passiva però ad oggi con la chiusura dell'azienda Marche Nord questa mancanza dei 300 posti letto che la nostra provincia ha è sicuramente ancora più evidente quando parliamo di posti letto vuol dire più risorse soprattutto più personali più tecnologia e quindi più posti letto vuol dire una maggiore capacità da parte delle varie delle varie sotture ospedaliere di poter rispondere in modo migliore più veloce a quelle che sono le esigenze dei cittadini la nuova organizzazione sanitaria prevede appunto la creazione di nuove aziende provinciali per quanto riguarda la provincia di Pesurbino però ha comportato la chiusura dell'azienda Marche Nord e io ritengo che sia necessario fare in modo che tutte le nuove aziende che partiranno questo è il progetto dell'attuale giunta regionale le nuove aziende dovranno partire dal gennaio 2023 queste aziende devono partire tutte dalle stesse condizioni la base per poter partire tutte le stesse condizioni sicuramente quello di avere un numero di posti letto adeguato rispetto a quelli che sono gli standard qualitativi per dare un numero 300 posti letto corrispondono quasi a un altro ospedale come quello di Pesero nel nostro territorio provinciale o meglio ancora vorrebbe dire riuscire ad avere un numero comunque di posti letto disponibili da poter utilizzare per rafforzare tutte le varie strutture presenti nel territorio a partire da quella di Pesero, quella di Fano, quella di Urbino, quella di Pergola tutte le strutture che sono come dire distribuite nel nostro territorio provinciale quindi 300 posti letto sono importanti possono fare la differenza per riuscire a ridurre quella che è la mobilità passiva e le liste d'attesa ritengo che la regione alla luce del fatto che è deciso di chiudere Marche Nord debba quanto prima mettere nelle stesse condizioni la provincia di Pesero Urbino rispetto alle altre province presenti nel nostro territorio regionale. Il caro bollette sta per fare i conti con il folclore dell'illuminazione natalizia a Pesero trapella già che non si rinuncerà all'albero e agli addobbi in piazza del popolo ma si studieranno soluzioni più sostenibili in altre zone della città. Il caro bollette delle amministrazioni pubbliche sta per scontrarsi con lo scoglio della organizzazione del Natale. Un Natale che a Pesero eccezion fatta per il 2020 di piena pandemia è stato ogni anno più sfarzoso nonché uno dei più illuminati d'Italia per dirla alla maniera di Matteo Ricci. Ecco quest'ultimo è un primato in cui sarebbe tanto moralmente opportuno quanto conveniente rinunciare e il comune sembra andare in questa direzione come emerso dalle ultime riunioni di giunta e da un incontro tenutosi oggi con i presidenti di quartiere. Si pensa a un Natale più morigerato ma non sulla piazza. L'albero illuminato da 80.000 led è già confermato in quanto agisce a basso consumo così come saranno confermati gran parte degli addobbi su una piazza che si presenterà con il restyling di pavimentazione. Su tutto il resto si stanno invece studiando allestimenti alternativi ad esempio quello dell'illuminazione mista fra luminarie tradizionali e lume di candela. Proposte che si accavallano sulle varie riunioni potrebbero ad esempio esserci vie meno centrali che erano ampiamente illuminate e che saranno un po' più oscure potrebbe esserci anche uno slittamento delle accensioni rispetto all'anno scorso quando l'albero e gran parte delle luminarie furono attivate il 27 novembre. Materie che arrivano anche sul tavolo del Consiglio Comunale con Emanuele Gambini che interroga la Giunta su quali azioni si intendono intraprendere per contrastare questo caro energia. Ed ora cambiamo argomento perché oggi il Tribunale di Bologna ha dato esecuzione di confisca di cinque immobili presenti fra le province di Pesaro e quella di Rimini che erano appartenenti a un pluri pregiudicato romagnolo di 70 anni attualmente in carcere per tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco. Il detenuto vanta 50 anni di precedenti penali soprattutto legati allo spazio di droga e in questi decenni ha investito i proventi dell'attività criminosa nel settore immobiliare. Le indagini sono portate avanti dalla Questura di Rimini che è al lavoro per il sequestro di ulteriori beni. Doppio incidente questa mattina nella rotatoria di Sant'Orso di Fano dove alle 6.30 uno scuterista di 67 anni è stato investito da un'auto Ford Cuga guidata da un 53enne che ha svoltato nella rotatoria non accorgendosi della presenza del ciclomotore. Lo scuterista è stato trasferito all'ospedale Santa Croce in codice giallo. Oltre alla polizia locale si è recata sul posto per i rilievi anche una Seat Leon della polizia stradale che mentre era ferma a bordo strada con i lampeggianti accesi è stata a sua volta tamponata da una Toyota Corolla condotta da un 59enne marocchino. L'uomo è stato sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo. Torniamo a parlare di vaccinazioni. Nella regione Marche è stata anticipata infatti a venerdì 21 ottobre a partire dalle ore 10 la possibilità di prenotare la quinta dose del vaccino anti-covid. L'ulteriore dose di richiamo potrà essere somministrata a persone con più di 80 anni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone di età maggiore di 60 anni con fragilità motivata da patologie che hanno già ricevuto la quarta dose. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Vi invitiamo sempre a mandarci foto, video, messaggi, whatsapp al nostro numero di redazione. Sono tanti lavori di asfaltatura nella città di Pesaro in questo ultimo mese ma ci sono ancora tante strade ammalorate che chiedono di essere inserite nell'agenda dei lavori. Vediamo. Il comune di Pesaro a partire dal mese di settembre ha previsto una serie di interventi di asfaltatura per 1.300.000 euro. Diverse le sistemazioni della pavimentazione stradale avviate e completate in queste settimane. Da via Passeri a via Lombroso, dalla Panoramica a via Togliatti e via Solferino. Ma nonostante queste operazioni sono ancora diverse le vie che necessitano di provvedimenti immediati. Via Mancini è una di queste e a segnalarcelo sono stati alcuni residenti che in questi giorni ci hanno contattato riportandoci il problema. Problema di asfaltature di buche presenti lungo la parte più a nord della via, che a detta di alcuni abitanti che vivono in quella zona da 26 anni, in tutto questo periodo, tranne qualche toppa, non si sono mai visti i lavori di catramatura. Una situazione che riguarda non solo la strada, frequentata ogni giorno da centinaia di macchine e motorini, ma anche il marciapiede a fianco del parco giochi. Muretto per larghi tratti inesistente e pavimentazione disconnessa che potrebbe rappresentare qualche scomodità per chi lo percorre, inclusi i bambini che frequentano il parco. Pericolo rappresentato anche dalla stessa strada, infatti tempo fa una residente anziana per raggiungere la sua abitazione appoggiando male il piede ha subito una distorsione alla caviglia. Testimonianza che si è stesa anche per quanto riguarda il motivo dei mancati lavori di manutenzione in questi anni. Sarebbero stati continuamente rinviati a causa di alcuni lavori mai avviati delle fugnature pubbliche sottostanti a via Mancini. Il mancato completamento di questo intervento avrebbe di conseguenza causato un ritardo di diversi anni per l'asfaltatura che via Mancini necessita e che non può più aspettare, compresi i residenti. È stato presentato nel comune di Terre Roveresche l'itinerario del silenzio e della fede di Confcommercio Marche Nord, un nuovo progetto che mette in rete i luoghi di culto della nostra provincia. Eremi, chiese, abbazie, autentici scrigni d'arte, tutti da riscoprire. È questa la filosofia alla base dell'itinerario del silenzio e della fede ideato da Confcommercio Marche Nord, racchiuso in una comoda guida di 128 pagine. Il turismo religioso è in espansione in tutto il mondo e da questo punto di vista la provincia di Pesaro Urbino ha davvero tutte le carte in regola per trasformarsi in un autentico museo diffuso, a partire da borghi suggestivi come quelli di Terre Roveresche. Ricordiamo che nel nostro territorio sono nate le tre grandi congregazioni religiose che fanno riferimento dei Francescani, dei Capuccini e dei Camaldolesi. Addirittura a Fossombrone nasce proprio l'ordine dei Capuccini perché la bolla pontificia che ha riconosciuto la creazione di questa congregazione è stata data a due frati, anzi un frate e il fratello laico di Fossombrone. San Francesco ha fatto i primi passi nel nostro territorio e quindi abbiamo delle realtà straordinarie come la chiesa di San Francesco a Cagli ma come anche a Saltara abbiamo un'abbazia molto importante e poi i Camaldolesi con l'eremo di Fonte Avellana ed altre realtà sul territorio. Qui a Terre Roveresche abbiamo un concentrato di chiese e abbazie molto importanti. Questa volta per la prima edizione dell'itinerario del silenzio della fede abbiamo inserito il santuario di San Pasquale Bailon qui di San Giorgio ma dato che faremo un'altra edizione, quantomeno un'altra edizione il prossimo anno ci sono delle realtà straordinarie a Barchi, Santubaldo se non sbaglio, a Orciano. È un modo per far conoscerci ancora di più, per far conoscere anche quest'altro aspetto perché chiaramente noi siamo il paese di tanti campanili ma siamo anche il paese di tantissime chiese. Qui a Terre Roveresche abbiamo il santuario di San Pasquale che poi è anche diventato il patrono di questo nuovo comune di Terre Roveresche ma sparsi nella nostra bellissima regione e provincia ne abbiamo tanti altri quindi sono tutti raccolti in questo che è questa nuova pubblicazione di ConfCommerce. Noi qui oltre al santuario di San Pasquale abbiamo anche un altro importante santuario è quello di San Giuseppe delle famiglie Paoline e anche lì addirittura loro nel tempo hanno creato 80 posti letto quindi non è solo qualcosa così di mordi e fuggi ma è qualcosa ormai di strutturato e quindi ecco speriamo che in questo ci possa dare quella visibilità che noi cerchiamo anche perché poi sapete adesso non è che diventeremo un altro cammino di Santiago del Compostela anche quello è un attrattore importantissimo e qui potremmo anche creare adesso lo proporremo alla ConfCommercio questo il cammino nel nostro itinerario del silenzio della fede non è lungo come quello là però si potrebbe fare. I luoghi di culto con tutte le loro bellezze diventano sempre più un volano per la creazione di una proposta turistica che coinvolga sì la costa ma anche quelle aree dell'entroterra che nelle grandi vetrine del marketing territoriale rischiano sempre più spesso di rimanere un po' nelle retrovie. ConfCommercio sta facendo un lavoro egregio con questa diversificazione sarebbe opportuno che adesso è cambiato anche il governo ci sia un'attenzione maggiore soprattutto per questi piccoli borghi perché altrimenti noi vediamo anche tutta una serie di politiche attività e progettualità che invece vanno sempre verso la costa, verso il mare. Visto che siamo terre roveresche oggi annunciamo anche che il 15 di novembre e quindi tra pochi giorni organizzeremo un educational con gli operatori turistici della costa e li portiamo tutta la giornata a terre roveresche perché è vero che noi ci sforziamo di fare promozione in Italia e nel mondo però abbiamo la consapevolezza che bisogna far conoscere il nostro territorio prima ai marchigiani e quelli della costa che spesso e volentieri non conoscono le bellezze del nostro territorio. L'impegno di ConfCommercio a favore del turismo ha davvero molte facce. Si va dall'ormai consolidato itinerario della bellezza che vede coinvolti ben 18 comuni tra cui le new entry Piobbico e Isola del Piano all'itinerario musicale al via da novembre incentrato su bande, cori e festival sparsi per il nostro territorio. All'abite di Milano verrà inoltre presentato il primo itinerario di moto turismo regionale. Dopo l'eccezionale affluenza di visitatori avvenuta in occasione delle giornate fai d'autunno dello scorso weekend la famiglia Signoretti proprietaria del restaurato Palazzo Perticari in corso 11 settembre ha deciso di prolungare l'apertura alle visite anche a sabato 22 e domenica 23 ottobre in orari compresi fra le 10 e le 13, fra le 15 e le 18 con gruppi composti da un massimo di 25 partecipanti. Sarà possibile prenotare la propria visita telefonando allo 0721 26 77 3 giovedì e venerdì dalle 9 alle 18. Partiranno a dicembre i lavori per migliorare l'efficienza energetica del Teatro della Fortuna ai 400 mila euro legati alle risorse del PNRR dal Ministero della Cultura. Il Comune di Fano ha aggiunto altri 250 mila euro per un totale di 650 mila euro necessari ad un radicale intervento sull'impiantistica e la centrale tecnologica che consentirà un risparmio energetico del 30%. Si conclude il Festival Musica Antica ideato da Croma Conservatorio Rossini Musica Antica. Dopo quattro appuntamenti da tutto esaurito nelle sale del Museo Rossini il concerto finale avrà come protagonista Michele Carreca, liutista di fama internazionale nonché docente di liuto al Conservatorio Rossini. Carreca si esibirà al Museo Rossini sabato 22 ottobre alle 17 in un concerto a ingresso libero fino a esaurimento posti. La storia di Pesaro e del suo territorio attraverso lo studio delle dinastie, degli intellettuali e degli artisti che hanno saputo connettere la vita della città a grandi tematiche europee. Questo l'obiettivo divulgativo del gruppo Storia e Nazione, neonata associazione culturale che è stata presentata nei giorni scorsi nel Comune di Pesaro dai suoi fondatori Massimo Baronciani, Marcello Valdinocci e Roberto Morbidi. Il gruppo inaugurerà la sua attività con una serie di conferenze d'approfondimento. La prima domani giovedì 20 ottobre alle ore 19 sarà alla Chiesa dell'Annunziata dove si discuterà di alcuni particolari aspetti legati alla vita di San Francesco d'Assisi. È ufficiale la città di Fossombrone sarà tappa d'arrivo del Giro d'Italia 2023, ufficialità che è arrivata nei giorni scorsi con la presentazione a Milano della 106esima edizione della Corsa Rosa. L'ottava tappa, Terni-Fossombrone, rappresenterà l'unico passaggio del Giro sul territorio marchigiano. Grande soddisfazione per l'amministrazione del sindaco Massimo Berloni, visto che per la prima volta nella secolare storia del Giro la città di Fossombrone sarà il traguardo di una tappa sotto i riflettori di circa 200 tv collegate da tutto il mondo. L'appuntamento è per sabato 13 maggio 2023. Prima di Fossombrone i ciclisti transiteranno anche per Cantiano, Cagli, Acqualagna, Isola del Piano, Monte Felcino e il suggestivo scenario della gola del furlo. E concludiamo questa edizione raccontandovi il ritorno della terza stagione di Insieme a Canestro dopo due anni di grandi successi, di grandi ascolti. Torna infatti domani sera in diretta alle 21.20 la prima puntata di questa appunto terza stagione. Allora ascoltiamo le parole del conduttore Marco Cadeddu. Abbiamo perso il conto di quanti telespettatori di Rossini TV, amanti del basket, amanti della VL, ci hanno chiesto quando tornava Insieme a Canestro. Ora una risposta l'abbiamo. Insieme a Canestro sta per tornare. Giovedì alle 21.20 si riparte. Sì, si riparte con la terza stagione. Certo che fare tre stagioni mi sembra che neanche tantissime serie di Netflix raggiungano questo traguardo. In effetti siamo stati bombardati. Partiamo giovedì 20 ottobre ma qui il campionato è cominciato già da tre settimane e tantissimi aficionados e tantissimi telespettatori continuavano a messaggiarmi ma quando partite? Ecco, finalmente partiamo, non vediamo l'ora e domani debutiamo in diretta, mi raccomando, alle 21.20 sul canale 80, non soltanto ma ci potete seguire anche in streaming sulla nostra pagina Facebook e soprattutto continuate a scaricare l'app perché poi potrete vedere tutto il palinsesto di Rossini TV in diretta dal vostro smartphone. Questo seguito testimonia il successo di questa trasmissione. Qual è il segreto del successo secondo Marco Cadeddu? Secondo il mio modesto parere ma d'altronde sono anche il presentatore, un po' l'ideatore di questa trasmissione. Quello non soltanto di parlare un'ora di pallacanestro, un'ora dei fatti in diretta di quanto è successo nella settimana precedente e quanto succederà nella settimana successiva, ma anche quello di raccontare delle storie, di presentare i giocatori, di presentare i personaggi, di far conoscere ai nostri telespettatori il loro passato, le loro ambizioni, i loro progetti, quindi di presentare il mondo VL a 360 gradi. Secondo me questo è stato molto apprezzato e anche tantissimi telespettatori e tante telespettatrici me lo hanno proprio fatto sapere e me lo hanno comunicato quanto apprezzassero queste nostre storie. E dunque stessa data il giovedì, stesso orario alle 21.20, stessa formula quella della diretta e come sempre tanti protagonisti attesi. Sì, tanti protagonisti attesi che non saranno gli stessi delle scorse stagioni, anche perché la VL ha cambiato tantissime persone nel roster, quindi dall'anno scorso quelli che già conoscete più vi racconterò le storie di tutti i nuovi personaggi che calcheranno il parquet della Vitifrigo e di tutti i campi della Lega Serie A e ovviamente tanti altri personaggi legati sia al mondo della VL sia alla società della VL, chiaramente con tanti opinionisti, colleghi giornalisti e illustri opinionisti che si siederanno nel nostro salottino. Continua invece l'interazione con il pubblico che è stato il valore aggiunto della seconda stagione, siamo in diretta quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare attivamente mandandoci messaggi Whatsapp o scrivendo commenti su Facebook, il numero di Whatsapp è quello che vedete in sovraimpressione, 370-366-7210, ci sarà il nostro Giovanni Zidda che leggerà tutti i vostri messaggi e le vostre domande che verranno ovviamente sottoposte agli ospiti. E allora davvero in bocca al lupo a Marco Cadeddu e ringraziamo come sempre la collaborazione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per la realizzazione di questo programma di successo appunto che vedrete domani. Intanto vi ricordiamo la messa in onda di questa sera perché questa sera alle 21.20 ci sarà Idea Impresa, CNA infatti vi dà una serie di consigli su Idea Impresa. Idea Impresa è un team di esperti in grado di aiutarti ad avviare un'attività imprenditoriale o di rendere il tuo sogno realizzabile. Quindi questa sera vi racconteremo nel dettaglio questa cosa molto interessante, se avete idea di aprire una nuova attività seguite l'approfondimento di questa sera perché vi sarà davvero molto utile. Subito dopo invece parleremo di Inside Marche Live, questa serata promozionale che è stata fatta e organizzata da diversi tour operator della nostra provincia in occasione della fiera del turismo di Rimini. Domani invece torno con voi alle 7.20 in diretta per la consueta Rassegna Stampa, quindi vi aspetto in diretta sul canale 80 o sulla nostra pagina Facebook e appunto vi ricordiamo l'appuntamento di domani sera con Insieme a Canestro. Vi ricordiamo che siamo in diretta e attraverso il nostro numero Whatsapp che ormai conoscete, il nostro numero della redazione potete scrivere messaggi e commenti su quello che vedete appunto e sugli ospiti che saranno presenti. Ho detto davvero tutto, adesso però prima di chiudere vedrete un nuovo trailer di una delle opere in concorso a questa nuova edizione del Festival GAD. Come sapete dovete votare questi trailer nella pagina Facebook degli Amici della Prosa perché il più votato tra questi trailer vincerà il premio Rossini TV. Saremo presenti noi il 30 ottobre durante la giornata finale del Festival GAD e consegneremo questo importante riconoscimento alla compagnia che avrà ottenuto maggiori punteggi con il suo trailer. Grazie mille e buona serata. Grazie mille e buona serata. E ora comincia lo spettacolo. Grazie mille e buona serata.